Buongiorno a tutti, benvenuti sul canale appendante di lezioni online. Questo canale raccoglie le mie lezioni e le metto a disposizione di chiunque ovviamente vuole, se gli sia interessato. In questa playlist in particolare trovate le lezioni del corso di matematica per i ragazzi del liceo linguistico del quarto e del quinto anno. Quindi la playlist contiene goniometria, trigonometria, esponenziali logaritmi e l'analisi infinitesimale. Spero che le lezioni vi siano chiare e vi siano utili, vi invito a iscrivervi al corso e vi auguro buona visione e buono studio. Grazie e arrivederci.